Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi andremo a parlare di cardio e neat. Ok? Ok? Allora, cardio e neat, mi avete chiesto tantissimo come gestire sia l'uno che l'altro, come organizzarsi un po', come poterle utilizzare. E quello che vedremo in questo video è che sono due armi diverse tra di loro, che hanno un senso, una logica in entrambi i casi e quindi vanno sapute utilizzare, vanno sapute capire e contestualizzare. Quindi l'uno non sostituisce l'altro, non c'è un meglio o un peggio, quindi cerchiamo di capire esattamente come gestirli e partiamo dal capire che cosa si intende sia per cardio, nelle varie forme di cardio, ma anche che cosa si intende per neat. Allora partiamo dal cardio, tutti quanti sappiamo che cosa si intende per cardio, logicamente. Possiamo dividerlo in due grandi categorie, ossia il cardio LIS, low intensity steady state cardio, e il cardio HIT, quindi il cardio ad alta intensità. Sostanzialmente la differenza sta proprio nell'intensità e nei battiti che raggiungiamo. Quando parliamo di cardio ragioniamo sui battiti cardiaci, è logicamente il parametro che ci interessa per definire l'intensità. Quindi un cardio LIS è un cardio in cui i battiti cardiaci stanno più o meno in fascia, quindi in fascia lipolitica, ossia andiamo a calcolare della nostra frequenza cardiaca massima, che si calcola con la formula 220 battiti per minuto meno la nostra età. Quindi se avete 20 anni è 200 e quella è la vostra frequenza cardiaca massima teorica, quindi di 200 battiti per minuto quando avete più o meno 20 anni. La fascia lipolitica è più o meno il 70-80% di quella fascia, quindi in questo caso 140-160 battiti per minuto. Ovviamente capite che man mano che andiamo avanti con l'età, la nostra frequenza cardiaca massima diminuisce e quindi anche la nostra frequenza in fascia, quindi la frequenza che dovremo raggiungere teoricamente nel cardio LIS. Fascia lipolitica nel senso che il mix di benzina che utilizziamo per ricavare energia vede un uso preponderante di grassi. Non raggiungiamo un'intensità tale da dover utilizzare un sistema di produzione energetico più veloce che utilizza i carboidrati, ma possiamo sfruttare il processo di beta-ossidazione che è molto più efficiente e quindi utilizzare i grassi come substrato. Abbiamo già fatto un video in cui abbiamo visto che non è importante che cosa bruciamo. La fascia lipolitica è più o meno per capire il livello di intensità e distinguere tra un cardio LIS e un cardio HIT, che è un cardio che viene fatto a una frequenza cardiaca più alta della fascia lipolitica. Non mi piace parlare quindi di quanto pendenza del tapirulan, che tipo di attività fare, dipende anche da quanto pesate, atleti di 120 kg facendo una passeggiata sul tappeto a una velocità di 5 km orari con una pendenza di 5-6 raggiungono tranquillamente un cardio in fascia lipolitica perché pesano 120 kg. Quindi va visto in base al soggetto, ognuno raggiunge i battiti che raggiunge nel modo in cui li raggiunge. Quindi queste due tipologie di cardio abbiamo. D'altra parte abbiamo il NEAT, ossia la spesa energetica che abbiamo per attività fisica involontaria. Ora, è una traduzione molto infelice quella che viene fatta in italiano perché l'attività fisica non può essere per definizione involontaria, però sostanzialmente è il dispendio energetico che abbiamo quando noi non facciamo un esercizio fisico, ma noi semplicemente viviamo. Quindi quando facciamo le scale, quando camminiamo facciamo una passeggiata, quando facciamo delle pulizie domestiche, sono tutte attività che noi facciamo non per fare esercizio fisico, ma perché siamo al mondo e dobbiamo vivere, però logicamente hanno un dispendio energetico. E il NEAT effettivamente ha un peso nel nostro quotidiano. Tant'è vero che uno dei fattori che diminuisce di più la spesa energetica in fase di cut è proprio che il nostro organismo ci manda degli input di, diciamo, depressione metabolica per cui tendiamo a essere molto più pigri, quindi prendiamo l'ascensore invece di fare le scale, siamo molto più seduti quando dobbiamo fare qualsiasi cosa, quando stiamo al telefono per esempio non camminiamo, ma preferiamo stare sdraiati, chi ha fatto una preparazione se ne rende benissimo conto, e tutto questo diminuisce anche di molto la spesa energetica che abbiamo nel corso della giornata. Quindi un modo abbastanza efficace e smart per calcolare il NEAT, posto che non si può calcolare mai con esatta precisione, è quello di contare i passi, quindi utilizzare un orologio, che sono orologi che costano veramente 20-30 pound su Amazon, utilizzare un orologio che semplicemente conta i passi, non deve essere super preciso, però ci dà una spesa energetica orientativa. Quindi io so e tengo traccia del mio NEAT in maniera appossimativa, tenendo traccia dei miei passi. Mi tengo questo orologio per tutta la giornata, lo tolgo quando faccio cardio, lo tolgo quando faccio attività in sala pesi, perché là sto facendo un'attività fisica, quindi io voglio calcolare tutta la spesa energetica fuori esterna all'attività fisica, all'esercizio volontario, e ho una media di passi. In genere il consiglio generale è quello di orientarsi per una persona sana sui 10.000 passi al giorno, in questo caso sappiamo che è una persona che sta in movimento e questo è ottimale da un punto di vista di salute. Ok, capite queste differenze, quindi un cardio-hit, un cardio-liss e un NEAT, cerchiamo di capire quali sono i pro e contro di ciascuno di questi approcci, di queste boci di spesa energetica, e come utilizzarle in un contesto sia di off-season che di preparazione. Ok, generalmente le differenze si basano sull'intensità che abbiamo. Il cardio-hit ha un'intensità abbastanza elevata, il cardio-liss un'intensità che possiamo definire media, il NEAT ha un'intensità molto molto bassa. Quindi ovviamente man mano che saliamo di intensità il contro principale che abbiamo è che avremo un'attività che è tassante in termini di recupero, ossia c'è un coinvolgimento muscolare. Un coinvolgimento muscolare vuol dire che diamo uno stimolo muscolare ulteriore che non è prettamente uno stimolo ipertrofico, ma che logicamente incide sulla capacità di recupero del muscolo. Quindi questo che vuol dire che con un cardio ad alta intensità tendenzialmente andiamo ad inficiare la capacità di recupero e di adattamento del distretto muscolare. Pensiamo alle gambe, alleniamo le gambe con una multifrequenza magari ogni 3-4 giorni, il lunedì e il giovedì, e se noi stiamo così vediamo che riusciamo a recuperare bene. Sono sessioni abbastanza tassanti, le impostiamo in modo che appena scatta la sessione successiva non abbiamo appena finito di recuperare. Quindi è tutto ottimizzato, ci alleniamo, diamo un stimolo efficace, il tempo di recuperare e rialleniamo il distretto. Se andiamo a inserire un cardio-hit questo equilibrio si rompe inevitabilmente perché abbiamo un'altra voce che può essere il lunedì sera, il martedì, mercoledì, non lo so, che va a compromettere il recupero, quindi un qualcosa che rallenta i processi di recupero. Quindi magari il lunedì mi alleno e invece di recuperare il mercoledì sera e giovedì e riallenare le gambe ho una voce di cardio-hit che rallenta il recupero, quindi giovedì non ho recuperato. La sessione di gambe sarà un po' inficiata e così di nuovo non riuscirò a recuperare per la sessione successiva che sarà il lunedì successivo e via via vado in overreaching, le gambe non recuperano, gli stimoli di adattamento ipertrofici sono logicamente ridotti. L'unica scelta che ho in questo caso è dare uno stimolo inferiore o diminuire la frequenza di allenamento, quindi renderla un po' meno rada. Per cui invece di riallenarle il giovedì le allenerò il venerdì, per esempio, le alleno ogni quattro giorni, eccetera, eccetera. Insomma, devo comunque inevitabilmente compromettere quello che è l'energia che spendo per ipertrofizzare il distretto. In un contesto di cut è un discorso che si fa perché meno o meno in cut devo arrivare in preparazione, però è abbastanza tassante quando parliamo di un discorso di off-season in cui il mio scopo è quello di andare ad ipertrofizzare il muscolo. Per cui da questo punto di vista e se dovessimo basarci soltanto su questo aspetto, allora il NEAT sarebbe l'attività migliore in assoluto perché abbiamo una spesa energetica ma non compromettiamo in alcun modo il recupero, quindi posso allenarmi come devo e in più posso aumentare la mia spesa energetica aumentando semplicemente i passi giornalieri. E questo è il motivo per cui vi devo dire che io personalmente i periodi in cui mi sono visto meglio e avuto risultati migliori sono stati quando stavo in viaggio. Ora vuoi che c'era lo stress molto più basso eccetera, però mi sono accorto che allenandomi e camminando veramente veramente tanto, perché in viaggio camminiamo veramente veramente tanto noi se ci seguite sulle storie su Instagram lo sapete benissimo, raggiungiamo i 30-40 mila passi al giorno, visitiamo, facciamo escursioni e tutto il resto, in questo scenario io vedevo che proprio mangiavo veramente tanto, recuperavo benissimo e il dispendio energetico era veramente veramente alto, quindi c'era un effetto di recomp importante. Qual è il problema però? Che di base non stiamo sempre in viaggio, non possiamo fare quello che ci pare tutto il giorno, non possiamo stare sempre a camminare, a fare escursioni eccetera e anche questo avrebbe un impatto perché camminare tutto il giorno non è un toccasana da un punto di vista anche se vogliamo articolare via discorrendo. Quindi purtroppo c'è un discorso che deve essere messo da conto che è il tempo. Il tempo, il NEAT, man mano che diminuisce l'intensità in generale, quindi anche il cardio list rispetto al cardio hit, ma in generale il NEAT è un'attività che a parità di dispegno energetico richiede molto più tempo, ossia per bruciare 100 calorie camminando ci metto tot, ma facendo un cardio list ci metto molto meno, facendo un cardio hit ci metto ancora meno. Quindi entra in gioco un'altra questione, quella del tempo. Il tempo è un qualcosa che non va sottovalutato perché entra e subentra un tipo di recupero che è un recupero più che altro, se vogliamo, neurale e nervoso, ossia il fatto di dover fare tanti tanti passi giornalieri, quindi atleti che fanno preparazioni che devono aggiungere i 30.000 passi, vuol dire veramente stare tutto il giorno con il pensiero di dover uscire e dover camminare è stressante, è molto molto stressante, mentre invece lo stesso dispegno energetico utilizzato con del cardio, quindi per esempio con del cardio list, ok, faccio quella mezz'ora di cardio list e sto tranquillo per tutto il resto della giornata, devo raggiungere soltanto i 10.000 passi, ma bene o male vi dico che già avendo un cane i 10.000 passi si raggiungono veramente veramente facilmente se lo portate a giocare, giocate con lui e tutto il resto. Quindi diventa un buon bilanciamento ed ecco che abbiamo questi due estremi, cioè tanta intensità vado a inficiare il recupero, poca intensità ci metto veramente troppo tempo e diventa stressante per la mia giornata, soprattutto in un contesto di preparazione, a meno che non sto in viaggio e vedo posti magnifici, faccio escursioni e neanche me ne accorgo. Quindi sostanzialmente come fare, come organizzarci. Allora vi dico la mia, io tendenzialmente non sono un grande fan del cardio heat in un contesto di bodybuilding. Per le donne è molto più facile inserirlo, è molto più utile e fruttuoso. Tendenzialmente rispondono molto meglio perché hanno capacità di recupero anche migliori rispetto a noi maschietti. Però in generale per gli uomini quello che io ho visto e ho visto nel confronto con molti tecnici e vedo che si utilizza è limitarsi ad arrivare massimo al cardio lisse, quindi non utilizzare l'heat. Perché? Perché se proprio voglio lavorare su alcune componenti di forte stimolo di EPOC, di stimolo metabolico, di stimolo di proliferazione mitocondriale, a livello di vascularizzazione, eccetera, quindi tutte le componenti che sono affini al cardio heat, diciamo componenti di lavoro di endurance muscolare, mi metto su un ax squat o mi metto su una pressa e faccio serie da 30, da 40, da 50 ripetizioni, che hanno anche una componente ipertrofica molto importante e mi richiedono una componente di adattamento cardiovascolare che è assimilabile al cardio heat. Quindi sostanzialmente lavorando in sala pesi possiamo avere e ottenere degli effetti analoghi a quelli del cardio heat. Benissimo, dal punto di vista di condizionamento cardiovascolare. Viceversa, se devo andarmi a gestire in una fase di off-season, io personalmente in off-season consiglio sempre di inserire del cardio lisse, perché ci permette di mantenere allenato il sistema cardiovascolare, di essere un po' più attivi nel corso della giornata, quindi stare anche più in salute di conseguenza, ma soprattutto stimola la fame, stimola l'appetito, ed è anche se è vero che diminuisce, aumenta il dispegno energetico, quindi pesa sul bilancio energetico, è anche vero che stimola l'appetito molto di più, ossia, banalmente, se io vado a consumare 200 calorie facendo cardio, avrò l'appetito per mangiarne altre 500, quindi in fasi di bulk in cui è importante mangiare tanto, assimilare tanto per stare dietro alle richieste di adattamento che l'allenamento ben fatto va a dare, allora il cardio diventa veramente veramente interessante, se non addirittura fondamentale. Sempre rimanendo in fasi di bulk, il NEAT io vado a suggerirlo tra gli 8 e 10 mila passi, non di più, non serve fare le maratone, non serve camminare troppo, anche perché quando superiamo i 10 mila passi inizia nella maggior parte dei casi ad essere forzati, se avete un tipo di lavoro, un tipo di attività che vi porta a camminare di più, a muovervi di più, beh venga, va benissimo, per carità non dovete smettere di lavorare perché avete raggiunto i vostri passi, però generalmente il consiglio è quello di non forzarsi troppo in una fase di off-season per fare troppi passi, è molto più intelligente andare ad inserire una sessione breve di cardio al giorno, quindi anche semplicemente un quarto d'ora di bike come sto facendo io attualmente piuttosto che, e sto anche abbastanza alto, generalmente per i miei standard, piuttosto che inserire tre sessioni settimanali da una mezz'oretta. Ora, in fase di contest prep, ancora i protagonisti con cui gioco, nel caso di bodybuilding maschile, poi faremo un video magari specifico per i bodybuilding nel caso delle donne, in cui il lit ha un ruolo abbastanza interessante, però nel caso di bodybuilding maschile i protagonisti con cui gioco sono sempre il cardio, l'is e il neat. Ora, come utilizzarli, come contestualizzarli, in questo caso dipende dallo stato di preparazione, generalmente sono due protagonisti che utilizzo e vado a condurre in maniera sinergica in base alla situazione in cui mi trovo, ossia più sento di essere stressato da un punto di vista neurale, nervoso, perché magari nel corso a giornata sono pieno, eccetera, meno gioco sul neat e gioco, viceversa, un po' di più sul cardio-liss perché mi serve di risparmiare tempo, più mi sento affaticato in generale dall'allenamento, dal cardio, da tutta la preparazione, eccetera, più riduco il cardio-liss in favore del neat. Più mi avvicino alla preparazione gara, più il cardio-liss tendo a diminuirlo e tendo ad aumentare il neat, quindi io solitamente sotto gara, sia su di me che sui nostri atleti, tendo a abbassare un pochetto il cardio-liss, a tenerlo stabile e a spingere anche abbastanza sul neat, anche perché sotto gara io il consiglio che do sempre agli atleti è di gareggiare in un periodo in cui sono abbastanza liberi, quindi nelle ultime settimane in genere non hanno veramente niente da fare se non concentrarsi sulla preparazione, quindi vi dico, senti, distrai, ti cammina, fai passeggiate, vai al parco, vai fuori, cerca di camminare tanto e abbiamo logicamente un target di passi di nuovo che teniamo. Ragazzi, questo è tutto per questo video, io come al solito vi invito a scrivere qua sotto le vostre osservazioni, le vostre domande, così sarò ben lieto di rispondere e spiegare qualsiasi cosa e logicamente dite la vostra su come giocate con questi fattori e come vi trovate in generale. Io vi ricordo che nel prossimo, sia in Vulcano che nel prossimo programma di allenamento che sta per uscire, anche e che riguarda la Contest Prep, andrò a spiegare nel dettaglio sulla parte alimentare anche come gestire il cardio e il neat, quindi là potete trovare degli approfondimenti, questa volta un po' più pratici, in funzione di una Contest Prep su come gestire questi due protagonisti durante tutta la fase per il raggiungimento della top condition. Con questo è tutto, vi saluto e vi rimando al prossimo video.